Bella ragazzi, siamo arrivati sul video finale del Rotto di Vision One Oppure no, boh non lo so, stare a voi a vedere questo grandiosissimo video ragazzi Mi raccomando, io vi chiedo innanzitutto di spollice altissimo per questo video Mamma mia ragazzi, ricco di emozioni e vi chiedo 50.000 like Ce la possiamo fare ragazzi, mamma mia sfondiamo tutto quanto di like Io già so spacca a casa, quindi ragazzi buona visione Volete farvi la squadra dei vostri sogni? E non avete crediti? Golda.com è far per voi E con il codice Joker avrete un piccolo sconticino Bella a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro Joker Siamo arrivati sul video finale del Rotto di Vision One in singola ragazzi Come già detto nello scorso episodio, vi faccio vedere un attimo qua che punto sono arrivato Allora, eccoci qua ragazzi, 22 punti su 23 ragazzi Ci rimane una fottutissima partita di merda E dobbiamo o vincerla o pareggiarla Ma sappiamo tutti che oggi l'andremo a perdere molto volentieri Allora ragazzi, probabilmente ci manca un fottutissimo punto Porco schifo Ci sono ritornato più carico che mai ragazzi Mi raccomando Questo video deve spaccare YouTube di like ragazzi Lo deve spaccare perché mi sto impegnando come una bestia Per portarvi il video finale Sto di nuovo agitato come la cacca ragazzi L'altra volta come avete visto ho giocato veramente agitatissimo E oggi non è da meno ragazzi, sto veramente C'ho il cuore che mi batte Quindi andiamo subito a farci il nostro Mamma mia La nostra partita E speriamo bene ragazzi Incrociamo anche i pri del culo Mi sto sentendo male ragazzi Vi giuro, mi sto sentendo male Altro del nostro avversario Vediamo un po' che squadra c'ha 8600 Lo sapevo che trovavo una bestia contro Lo sapevo Guarda che squadra che sono andata a trovare Porca puttana Ma guarda che cazzo di squadra sono andata a trovare Aboumeyang e Sif Sif che cazzo è Shakiri, Baggatone, Dembruglier, Rodriguez Benatia, Hummels Robben, Royce Mamma mia regà Non ci voleva Non ci voleva ragazzi Non ci voleva Assolutamente Mi abbasta una vittoria o un pareggio Quindi speriamo bene ragazzi Ma regà io so agitatissimo Come il culo del drago proprio Vai subito Ronny Ronny Ecco Subito distrutto Ronny Sono di una agitazione ragazzi Sto a 2000 A 2000 Pure l'altro episodio Tremavo E sto iniziando Quasi a tremare anche adesso Vai Vai Suarez 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 No No cazzo No cazzo Ragazzi vi giuro Io sto tremando Ma perché Perché mi agito così Tanto Mamma mia Vai Suarez 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 Vai Joker Vai Cazzo Suarez Signori Suarez 1 a 0 1 a 0 Non sbaglia Due volte Vai Vai Mamma mia Mamma mia Regà vi giuro Io mi sto sentendo Non so se stanno Ci Mamma mia Regà So agitatissimo Sono agitato Come un Tanto Messi Che mi è morto Lì per terra Dai regà Dobbiamo fare Più gol possibili Dobbiamo portarci In vantaggio Che qua Veramente La situazione Si fa molto Grave Vai 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 Ti prego Piché Cristiano Cristiano Mamma mia Ronaldo Si cazzo Si cazzo C'è ragione Vai fuori Che sto facendo i colpi Oddio Cercate che Regà Si Si regà 2 a 0 2 a 0 Regà 2 a 0 Ma devo farci il cane Che sta facca Cazzo Sotto tantissimo Mio dio 2 a 0 Regà 2 a 0 2 a 0 Oh mio dio Cristiano Ronaldo Te lo faccio rivedere Che bucio di culo Regà Che bucio di culo Deviazione Per favore Famma mia Mamma mia Raga Brividi Brividi Dai Joker 2 a 0 Cazzo Dai Porco Giuda Suarez 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 3 a 0 Ragazzi 3 a 0 Non la posso perdere Questa partita Oh mio dio Potrebbe essere la fine Del roto di Johan Dopo anni Perché chi ben segue Regà Non può capire Da quanto sto Qui in divisione 1 Che sto provando A combattere Con tutte le mie forze A vincere Non potete neanche Immarginarlo Ragazzi Solamente alcuni di voi Che mi seguono Da tanto tempo Del roto di Johan Possono sapere Quanto io posso Essere agitato Giocando questa partita E quanto Potrei essere felice Se vinco Ma mai dire mai Ragazzi Stiamo 3 a 0 Ma mai dire mai Io intanto Sto ritremando Come un cretino Regà Perché sono agitato Al massimo Io penso che Se gli faccio un altro gol E questo lo facciamo Quitare Regà Quindi Ci devo sperare Ci devo sperare Ci devo credere Più che altro Finisce il primo tempo 3 a 0 Mamma mia ragazzi Fermi tutti Poi come ha fatto Fa 4 di 2 In porta 3 gol Ah perché uno L'ha deviato È vero Secondo tempo Ragazzi Secondo tempo Suarez Suarez Messi Mamma mia Mamma mia Messi Non ti prenderanno Mai Bale Mai Mamma mia Di nuovo al centro Boh Mamma mia Vai Oh baby baby One more time One more time Goal Goal Settantesimo Mamma mia Mamma mia Messi Messi Regà Mi sto sentendo male Regà Non ce ne voglio credere Non ce ne voglio credere Non ce ne voglio credere Questa è la volta buona È la volta buona Guarda Messi Recupera una grande palla Buccio di culo Regà Vi giuro Sotto è ma come Un deficiente Te prego Faffanculo E quitta Non mi fa soffrire Se fanno così Quitta Sta quitta Sta quitta Sta quitta Sì 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 E vince E vince il roto di vicio one Campione 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 del roto di vicio one Sì ragazzi Sì ragazzi Oddio 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 regà Non ci chiede 9.8 Oddio Oddio regà Speriamo che non me la dà persa Oddio Si Non ci credo 4-0 Fa quitta L'avversario Stradomina Joker Mamma mia Regà Dito l'ho vinto Non ci credo Non ci credo Oddio Oddio regà Oddio 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 regà Un po' dei capi che peso che mi sono torto da le spalle Oddio regà Mi sono metà a piangere il giuro Non ci voglio crede Dio regà Sono 2.000 Sono 2.000 Titolo vinto Mamma mia regà Che video spettacolare 4-0 Fa quitta L'avversario All'ultimo Fa quittare l'avversario Giocherino Vince Il roto di vicio one Sì cazzo Sì cazzo Regà E qui voglio 50.000 like Ragazzi Mi rimerito Perché Voi non potete neanche immaginare Su questa Road di Giovan Io Le incazzature Che ho preso Ok Quindi anche Vesto a D Complimenti E vinto divisione Dio E ha messo Gio di foot Ragazzi ho vinto Sì E poi guarda che squadra Che mi ero creato Per giocarla Guarda che squadra Me sto sentire male Perché poi Non capi Forse tanta gente Non immagina Da quanto io sto combattendo Per vincere il titolo Della divisione 1 E forse Non immagina Quanto tempo Io ci ho passato Le notti Per cercare di ritornare Dove ero prima Cioè veramente Mentre voi non potete capire Le retrocessioni Che mi sono fatto Ma me le incazzature Regà Ma oggi Grande giorno Abbiamo stravinto Se non stavo a registrarmi Sarei sparato sulle palle Ragazzoli Io spero che voi siete contenti Quanto me Perché l'altro episodio Ha raggiunto 26.000 like Ma assolta ne voglio il doppio Ne voglio 40.000 ragazzi 50.000 Perché abbiamo vinto il titolo Cazzo Abbiamo vinto il titolo E dico abbiamo Perché voi Mi avete sempre supportato Ragazzi E quindi io vi ringrazio Perché mi avete dato anche la forza Di continuare Perché sapete che io Volevo interrompere il dovere Road to show one E vi avrei portato solamente La puntata finale Grazie ragazzi A tutti quanti Quelli che ci hanno seguito Ma ragazzi Ho affiatone Perché mi sto sentimando E voi non ci credo Ho aggirato Ho aggirato Pare convinto La coppa del mondo Corco 2 Comunque ragazzi Grazie mille a tutti Per quelli che mi hanno supportato E mi hanno dato dei consigli Per vincere il road to show one Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta Obiettivo completato E poi un obiettivo Con un 4 a 0 Sterminato il nostro avversario Guarda che squadra Ma anche noi Non è una squadra Fortissima Gaboume Young E tutti gli altri Fortunatamente Forse non sa far giocare Come doveva giocare Meno male Ragazzi L'appuntamento Può finire qua Il road to show one Può terminare qua Ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Cosa volete vedere Su FIFA Oltre alla challenge Quella che sto facendo Che sta quasi per terminare Anche quella Poi non so se sto video Lo caricavo prima O se è già finita la challenge Ma lo so Perché se no Vi posso portare Un'altra sfida Ragazzi Adesso farò quella con Step Sarà diciamo La serie principale Perché Praticamente È la serie principale Perché stiamo facendo Il Stagioni Cop Ragazzi La road to show one in cop Quindi supportate anche Quella serie Consigliatemi altre serie Ma sicuramente Inizierò la serie Quella che mi ha consigliato Ragazzo Un ragazzo mi ha consigliato Una serie molto A parere mio Potrebbe essere molto carina Che parti sempre Con una squadra di bronzi E poi devi sommare Tutte le valutazioni Gole E poi ti vuoi mettere Dei giocatori forti Ragazzi Grazie mille a tutti L'appuntamento Fa finire qua Spolliciate un casino Ci vediamo Un po' se il momento Il vostro gioco ragazzi Stol 2000 Bella Scrivete qua sotto Quello che volete Su FIFA E poi A breve Arriveranno anche Tante sfide Con altri youtuber Su FIFA Ci saranno Ammazzarsi Dalle risate Bella ragazzoli Bevo io bene Stol 2000 Beh che dire ragazzoli Dopo questo video Abbiamo raggiunto Finalmente La fine del Rotary Showman In singolo Dopo veramente Tantissimo tempo Erano 4-5 mesi Se non di più Che stavo provando A combattere Per questa Divisione Quindi ragazzi Che dire io Spero che questo video Vi sia piaciuto Finalmente abbiamo Completato l'obiettivo Di vincere Questo Rotary Showman Ragazzi Vi raccomando 50 mila Mi piace Per farvi vedere Quanto Anche voi Ci siete contenti Che finalmente Ho vinto Sto cazzo Di divisione Io ho un peso Veramente In meno Sulle spalle Ragazzi Veramente Sono emozionatissimo E niente Ci vediamo Con i prossimi Sfide Su FIFA Bella Ciao